La tragica notizia ieri ha sconvolto anche tutta la Asli Teramo, dove il professor Vicentini ha lavorato fino a pochi mesi fa come primario del reparto di urologia prima di andare in pensione a fine dicembre. Anche la figlia Alessandra lavorava alla Asli Teramo da pochi mesi e era stata assunta come dietista nel reparto di oncologia dell'ospedale Mazzini. Il direttore generale della Asli Teramo, che conosceva bene il grande lavoro portato avanti dal professor Vicentini, ha voluto ricordarlo così. Ci è piovuta addosso una notizia che nessuno si aspettava potesse accadere, anche perché avevamo festeggiato con lui il 30 dicembre in Asli con tutti i primari, il suo pensionamento, era felice. Era felice che la figlia aveva iniziato un rapporto con noi a novembre come dietista all'oncologia. Purtroppo adesso che poteva godersi un po' la vita, purtroppo dopo situazioni familiari non si sa cosa porta nella mente delle persone e questo può far sì che accadano anche tragedie come quelle di ieri. Ma sono tanti i colleghi che hanno voluto ricordare il medico ma soprattutto il professore che li ha guidati nel loro percorso formativo. Io ho avuto l'onore e la fortuna di essere una sua studentessa e di lavorare insieme con lui a Teramo. Il professore è stato una persona eccezionale dal punto di vista professionale, stimatissimo. Nell'ultimo anno, con il mio incarico di facente funzione di direttore dell'anestesia, lui mi ha accompagnato in questo percorso difficile, dandomi consigli anche ai paterni. Il professore io lo conoscevo personalmente anche al di fuori del lavoro, in quanto ci vedevamo l'estate, nello stabilimento di Tortoreto. Eravamo vicini di Ombrellone, conoscevo anche la famiglia ed è stata una notizia veramente sconvolgente. Sulla drammatica vicenda, l'attuale primario di urologia, Maurizio Ranieri, raggiunto telefonicamente, ha dichiarato che conoscevo da circa 20 anni il professor Vicentini. È stato il mio relatore di laurea e per lui sono stato il primo studente in medicina, al quale ha fatto da relatore. Lo devo a lui se sono diventato urologo e ho lavorato insieme a lui per molti anni. Conoscevo tutta la famiglia, per me è un dramma personale e umano. Chi conosceva Carlo Vicentini sapeva quanto era legato a tutta la famiglia e soprattutto al figlio, ragazzo semplice nonostante le difficoltà, sempre sorridente. Credo che vivere sempre accanto alla sofferenza del proprio figlio abbia segnato la sua esistenza, in un dolore interiore senza fine. E spero che adesso riposino tutti in pace.